arrivato arrivato che devo fa steven steven non posso iniziare steven steven arrivato marco marco dove sta sta arrivando sono due giorni che lo stiamo aspettando ma marco dove passi morgan morgan un attimo ma steven sta arrivando steven scusate non altro perché io dovevo fare un video sulle visite mediche ma zonzin ancora non è arrivato quello si sta a mettere tre e quattro ore per scendere dal letto ah ancora siete scherzo ancora non è arrivato marco a casa per dormire stava tornando a casa per dormire passata la notte il giorno dopo partì verso miglia stuart invece lui sta ancora in procinto per andare a letto quindi prima che arriva a letto prima che dorme prima che sarsa prima che via miglia stuart è per questo che zonzin non si è presentata ai visite mediche eh no perché io mi stavo a preoccupare con non lo vedo o è morto o l'hanno rapito non lo so oppure non vuole più stare qua a roma e quindi sarà nato forse il calciomercato invece non è questo il motivo il motivo è che lui e lui si deve ancora muovere troppo lento e io dico ma questo non è lento solamente in campo regà è lento pure fuori dal campo devo ancora presentarsi a villa stuart cioè di sto passo questo si presenta agli allenamenti maggio prossimo dice ragazzi sto qui pronto con la preparazione atletica pre campionato se arriva fonseca e dice guarda in realtà qui il campionato è finito e quindi il problema è questo boh io lo stavo tutto in ansi quando sta steven cioè io sapevo che non sarebbe mai arrivato puntuale cioè io stavo lì aspettando a villa stuart dicendo vabbè zonzin arriverà con un quarto d'ora di ritardo venti minuti 42 come numero di maia mazzo è passato un giorno ancora non si è presentato fammi glielo squillo regà o marco fai glielo squillo perché io qua non mi fido onestamente scusa morgan cosa è il francese no si italiano quello ancora non sa manco come si chiama prima che si pronuncia il nome da solo passano 50 anni mi chiamo steven zonzin il punto è questo non quindi ancora palaia in francese che è quello prima che capisci l'italiano passano 50 anni te prego morgana dove vai a fare uno squillo no perché ancora non è arrivato qua a villa stuart ragazzi